Quando si dice vita da cani, sono ospitati qui in questo rifugio fatiscenti a ridosso della statale e del torrente cerrano a nord di Silvi, meglio che randagi e abbandonati con tutti i rischi che questa vita comporta, violenze, investimenti, colpi di fucile. Da anni ne hanno la cura, lega del cane e tanti volontari amici che provvedono a vaccinazioni, cure e ovviamente alimentazione. La location, specie nel periodo estivo, è quasi invivibile. Le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno sempre promesso, ma mai mantenuto, almeno fino allo scorso 21 aprile, quando la sensibilità lodevolmente canina del sindaco Gaetano Vallescura ha portato il Consiglio Comunale a deliberare e in questi giorni l'amministrazione ha consegnato all'edilizia Candeloro di Chieti il progetto. Il canile rifugio, che costerà complessivamente 250.000 euro, i fondi sono del Comune e del Ministero della Salute, sarà realizzato a pianacce nel sito dell'ex discarica bonificata. Un'area da 650 metri quadri, dove sorgerà un piccolo manufatto per gli uffici e servizi di supporto, e 10 box, confortevoli e a norma. I tempi di realizzazione? 180 giorni, ancora sei mesi di pazienza, amici a quattro zampe e poi, finalmente, una nuova casa. Grazie a tutti!